Gli strumenti per controllare ci sono già negligenza della regione, ribattono le opposizioni. Non si può fare speculazioni quando ci sono i fatti di corona che non intervenire. La politica deve intervenire, il governo ha la possibilità di farlo, se non lo fa interverremo noi. Oggi il Partito Democratico scarica tutto come al solito sul governo. In realtà quella di San Benedetto non era una casa famiglia, ma a quanto ci risulta era una comunità alloggio che sottostà a regole regionali. Quello che è mancato sono i controlli.